Prova il secondo compressore, dottore Dogman Che strano avversario, avversario, questo Fortesk È ostinato, tirato, devo ammetterlo E di certo, di certo è più forte di voi due Ha anche sconfitto Iron Slugger, maestro Ha sconfitto anche Iron Slugger, maestro Stupido, ne ho avuto abbastanza dei vostri visci di piagnistei Fuori di qua Non importa, chiamerò i miei alleati prima del previsto Ah, Peltorn, finalmente è giunta l'ora del mio glorioso arrivo Oh sì, l'ora finalmente è giunta Oh sì, l'ora finalmente è giunta Oh sì, l'ora finalmente è giunta Grazie a tutti. 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 che a tutti. 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 a tutti.